YouTube è rotto. Oggi voglio parlarvi di un argomento che ormai affligge la piattaforma da tanto tempo e ad oggi ancora non è stata trovata alcuna soluzione. Sto parlando dei bot. Voi probabilmente, sicuramente avete avuto a che fare con queste persone, con queste persone finte, che trovate in modo ricorrente in tutti i nostri video, soprattutto quelli appena pubblicati. Appena tu pubblichi un video, dopo nemmeno 1-2 minuti compaiono questi bot e a distanza di mesi dal problema, e non sono l'unico su YouTube, tantissimi hanno già fatto video al riguardo, ancora non si è trovata una soluzione. Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di Google, ad oggi non sono riusciti a trovare una soluzione per arginare il problema. Questi bot, nonostante vengano bloccati, nonostante si applicano dei filtri, riescono a bypassare tutti questi filtri e riescono continuamente a svolgere il loro lavoro. Cosa servono questi bot? Perché ci sono? Non so se avete notato, ma questi bot addirittura sono gentili. Adirittura ti dicono complimenti, bellissimo video, non vedo l'ora di vedere il prossimo contenuto. Cicavoli, i bot podarack sono dei bot buoni, ti danno addirittura dei commenti positivi. Ma ovviamente dietro c'è un dietro le quinte che non potete immaginare. Lo capite vedendo le immagini di profilo, immagini di profilo spesso accattivanti che ti invitano a cliccare sul profilo. Cosa succede? Cliccando sul profilo vedi subito la presenza di link a siti esterni e video un po'. Probabilmente premendo questi link succede lo scam più totale. Probabilmente phishing, probabilmente non lo so, furto di dati, furto di account, non ne idea. Quello che io voglio fare con questo video è non tanto lamentarmi con YouTube, perché tanto YouTube non vedrà mai questo video, ma tanto per avvisarvi fate attenzione a questi profili. Perché per quanto noi possiamo stare attenti, infatti io appena pubblico un video non vengo più notificato da YouTube. Io ho Poderak, Poderak Games. Poderak quando pubblica un video viene notificato su Poderak Games e viceversa. Adesso io non ricevo mai le notifiche, le notifiche non le ricevo mai. Mai i commenti di sti bot sempre, 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 sempre. E lo sapete la cosa assurda di questi bot? Questi bot, una volta che tu li blocchi, li nascondi, loro non sanno che tu li hai bloccati. Però hanno un sistema diabolico, perché nel video successivo che tu pubblichi sembrerebbe come se abbiano un sistema che controllano. Gli altri sono stati bloccati dal creator questi profili. Come fanno a verificarlo? Semplicemente magari attivano una modalità in incognito e riescono a verificare che quei commenti non vengono più mostrati. E creano a loro volta altri account. Non so se veramente c'è questa diavoleria dietro o è una casualità che si tratta di account generati a manette e quindi a prescindere sono sempre quelli. Però la cosa assurda che ho notato è che o è un YouTube lungo, un video lungo o un YouTube short sono sempre fissi quei 4 commenti. Io provo a cancellarli ma capite che non sempre viviamo su YouTube, a volte i video vengono programmati, quando vengono pubblicati non è detto che facciamo in tempo a rimuoverli. Addirittura mi sono arrabbiato tantissimo perché un giorno ho scoperto di aver eliminato vari video ma siccome il tasto blocca sullo smartphone è vicino al tasto fisso in alto, mi è capitato un paio di volte addirittura di fissarlo in alto il commento. Quindi di rischiare che questo commento fosse anzi fin troppo in evidenza causando possibili problemi. Odorak ma chi è che ci casca, chi è che preme su questi link, su questi profili? Neanche un babbo ci premerebbe. Vi assicuro che non è assolutamente così. E lo dimostra un evento che mi è successo qualche giorno fa di una persona che mi scrive e mi dice Oh Poderak, ho visto la tua recensione e sono stato truffato. Ho detto, che recensione? Questa persona cosa aveva fatto? Aveva comprato un robot vedendo i miei video e ho detto, com'è possibile? Cioè insomma, dove l'hai comprato? Mi ha raccontato la storia, ha detto di aver trovato quello stesso robot mostrato nei miei video su delle pubblicità su Facebook. Aveva pagato 60 euro con addirittura pagamento alla consegna e si è ritrovato poi un giocattolo. Uno intelligente capisce subito che un robot da 1000 euro non può mai essere in offerta a 60 euro. Ok ci sono gli errori di prezzo a volte su Amazon, innanzitutto assicurati dove lo compri. Ovviamente il sito non era né Amazon né il sito ufficiale del produttore. Non dico che il sito si chiamava titrufo.it ma comunque era molto intuitivo che non era un sito affidabile. Ma purtroppo ancora, io lo vedo spesso, ci sono tante persone che ci cascano a queste cose e se questi bot continuano a esserci, probabilmente quello che finanzia tutto quanto ci sta guadagnando. E probabilmente tante persone continuano a cascarci. Ecco perché se questo video serve anche per avvisare una sola persona che era intenzionata a cliccare quel link, spero che con questo video almeno non lo faccia e che stia più attento. Perché sì, a volte capita magari di trovarti quell'avatar un po' cattivante, sei curioso, vuoi scoprire di più su quella persona e mai puoi immaginare che invece si tratta di uno scam. Chi è più avvezzo con internet lo capisce subito, chi meno a volte ci casca, ecco perché ho voluto fare questo video. E c'è un altro problema, non si sa questi bot quanto realmente stanno influendo anche sull'algoritmo. L'algoritmo è veramente qualcosa di abissale. In continuazione sta cambiando, sta competendo con la piattaforma cinese TikTok e viceversa. TikTok sta sempre cambiando l'algoritmo, adesso addirittura TikTok sta cercando di in qualche modo affossare YouTube anche loro pubblicando i video brevi, però facendo molta fatica, così, no scusate i video lunghi, così come sta facendo YouTube fatica a spingere i video brevi. C'è una lotta quasi in stallo in questo momento che comporta continue modifiche dell'algoritmo. L'algoritmo però è un po' drogato, se così possiamo dire, da questi bot. Nel caso dei grandi YouTuber, secondo me, non influisce particolarmente, perché se in qualche modo tu vai a cancellare quei commenti, si tratta comunque di una piccola percentuale che poi viene sopperita, fortunatamente, dal pubblico che hai, che quindi riesce a ricalibrare le tue statistiche. Ma in video dove non ci sono tante visualizzazioni in video YouTuber più piccolini, questi bot che continuano a pubblicare, secondo me, incidono anche sulle performance del video. Perché cosa succede? Innanzitutto, il watch time diventa un secondo per quel video, perché questi entrano, commentano e poi non penso se lo vedono il video. Come ben sapete, YouTube ormai non considera più il numero di iscritti, non considera più neanche le visualizzazioni, considera le interazioni. Se ci sono persone che commentano, persone che guardano il watch time, tende a mostrare meno un video. E cosa succede? Se questo watch time viene drogato da questi bot che, ovviamente, vedono un secondo in più, commentano e vengono poi cancellati giustamente questi commenti, perché è meglio per voi che non ci siano, ecco, penalizza il canale. Però nel mio caso è sempre stata una situazione particolare, perché io porto contenuti di nicchia, insomma, che vengono ricercati. Però personalmente ho notato anche io questo problema, che spesso i video non vengono più mostrati nelle ricerche. Anche perché tu dici, ma magari l'algoritmo sa che sei tu, quindi non ti mostra i tuoi video nelle ricerche. Ho provato anche collegandomi con l'altro canale, oppure con la modalità incognito. È vero, quando attivi la modalità incognito o utilizzi un altro account, i tuoi video ricompaiono nelle ricerche, però ho notato spesso alcuni video, nonostante siano, tra virgolette, esclusivi, che nessuno ha portato quel tipo di contenuto, a volte capita che YouTube preferisca mostrare in alto dei video che magari non c'entrano neanche niente. Però di questo non mi preoccupo tanto, perché vi ripeto, a livello di algoritmo dobbiamo essere noi creator, essere bravi a studiarlo, a vedere come cambia e ad adattarci. Perché per quanto noi possiamo lamentarci, in realtà non è così, perché YouTube se adotta determinate strategie è perché cerca in qualche modo di tenere il più possibile i propri utenti attivi sulla piattaforma. E se un nostro video non viene proposto, vabbè anche questo problema dei bot, ma penso che comunque per quanto i bot siano un problema, in realtà comunque un po' YouTube sa i video che vanno. Così come le notifiche, voi avete magari attivato le notifiche, ma se YouTube verifica che una volta l'hai cancellata, la seconda l'hai cancellata, anche se tu le attive, capisce che quello YouTuber magari non ti interessa, non ti intasa più il telefono, non vuole essere uno stalker YouTube, vuole essere un tuo amico. Ed è per questo che magari a volte le notifiche, anche se le tenete attive, non ve le mostra più. Perché ha verificato YouTube, nonostante ti abbia magari proposto inizialmente delle notifiche, oppure ha verificato che appena tu guardi quello YouTuber, guardi solamente 30 secondi, tende a cercare di darti il più comfort possibile e di proporti solo effettivamente contenuti che tu guardi. Ho notato questo avendo due canali, effettivamente su canali che vedo, continuo a seguire, vengono continuamente proposti, le notifiche funzionano correttamente, di altri YouTuber dove magari ho attivato le notifiche, ma perché inizialmente io pensavo di voler vedere tutti i video, poi concretamente non è così, effettivamente YouTube poi con il suo algoritmo riesce a saziarmi con i contenuti che effettivamente mi piacciono. Attenzione, non è un algoritmo perfetto, però secondo me sta molto seguendo la linea di TikTok, che su questo è sempre stato vincente, e infatti se adesso è quello che è TikTok, è stato molto dal suo algoritmo, che riesce a capire le preferenze degli utenti pigri, che magari non interagiscono con la piattaforma, non mettono mi piace, non commentano, non fanno niente, però in base a come guardano il video, in base a come interagisce, capisce che tipo di interesse hai, e ti mostra determinati contenuti. Ah, vi ricordo, questa è una parentesi, l'algoritmo, vi ripeto, nel mio caso è sempre stato una questione di nicchia, infatti io su Poderac ho sempre portato argomenti di nicchia, che hanno portato un determinato numero ristretto di persone nel mio canale, ma perché mi piacciono determinati contenuti, seppur so che magari quei contenuti non sempre vanno, però spesso determinati contenuti che erano di nicchia, poi sono diventati di grande interesse. Giusto per farvi un esempio, ad esempio Arduino, io fui uno dei primi a portare Arduino in maniera approfondita, c'erano dei video su YouTube Italia anche di Arduino, ma mai nessuno spiegava nel dettaglio il codice, il circuito, fu uno dei primi a fare guida completa, tutorial, su come fare passo passo quella da determinata cosa, e quel fare quella cosa mi ha portato una bella nicchia di persone, fino ad arrivare addirittura ai miei primi 10.000 iscritti. Poi ovviamente cambiano le passioni, cambiano gli interessi, però capisci, spesso a volte queste nicchie aiutano a portare degli argomenti, che per esempio qui in Italia magari erano prima sottovalutati, tipo nel caso di Arduino, poi sono nati tanti altri canali, che vabbè magari spesso dicono, sì mi sono ispirato agli americani, poi però fai 2 più 2, magari non è proprio così. A me non mi interessa, mi fa tanto piacere comunque che quell'argomento sia stato spinto, perché a me sinceramente piace vedere che magari un argomento che era prima di nicchia, poi venga preso in considerazione. Tipo anche Alexa, Alexa sì è vero che ci sono tanti canali che ne hanno sempre parlato, ma io ho sempre voluto fare il tutorial, per spiegare passo passo come fare una determinata configurazione, non la recensione, la configurazione. E questo anche qui ha portato molti utenti, che probabilmente si sono iscritti per questo. Così anche per i robot aspirapolvere, abbiamo portato qui in Italia dei brand, che erano sconosciuti in Italia, tipo Tineco, tipo Dreamy, robot che esistevano solo su Aliexpress, ma che poi sono diventati dei brand che erano prima di nicchia e adesso molto conosciuti e molto chiacchierati. E questo è il percorso che ho sempre voluto proseguire qui sul canale, ovvero portare delle nicchie che sì è vero magari non portano visualizzazioni, ma che aiutano un pubblico ristretto di persone, che magari poi nel tempo diventano tante persone che si interessano a quell'argomento. Chiudo in sintesi perché penso che ho parlato tanto, spero ovviamente che YouTube in qualche modo riesca a risolvere questo problema, perché i bot sono qualcosa di davvero odioso e secondo me anche dannoso.